Buongiorno a tutti e benvenuti al video conclusivo di questa serie esclusiva per voi studenti di valerioviale.com. In questo ultimo video faremo un attimo un riassunto delle cose che abbiamo visto insieme. Abbiamo parlato di scegliere la lingua, la prima lingua da studiare, in questo caso abbiamo detto l'inglese ma ovviamente dipende dal tipo di mondo a cui vi affacciate. Molte di queste lingue che sono culturalmente prevalenti in certi contesti possono esservi utile, io dico spagnolo e francese perché essendo lingue romanze, essendo molto diffuse, hanno tutta una serie di facilità sia a livello di quantità di materiali, di scuole e di insegnanti, ma sono anche utili eventualmente nel mercato del lavoro, che non fa mai male. Quindi il suggerimento numero uno è quello di fare molta pratica, fin da principio con italki.com, di leggere libri per bambini, questa è anche una buona idea, poi potete, dovreste fare abbastanza da principio degli esercizi di pronuncia, potete utilizzare forbo.com e poi trovare un insegnante specializzato in pronuncia sempre su italki, potete utilizzare google translate per cercare di familiarizzarvi con i suoni e pronunciarli allo stesso modo. E poi, naturalmente, abbiamo detto che le lingue sono un mezzo e non un fine, quindi dovete trovare un modo di divertirvi, se no non ha alcun senso. Se non lo fate divertendovi, non potrete mai investire il tempo necessario e che il tempo necessario dovrà essere qualche ora alla settimana, almeno un paio di ore alla settimana, se volete progredire decentemente con queste lingue. Potete fare un sacco di esercizi divertenti, come togliere l'audio a un film, tenere i sottotitoli e cercare di imitare quello che ha detto l'attore, potete farlo anche con i vostri amici, vi assicuro che è molto divertente. Potete utilizzare degli esercizi di lettura da soli o con il vostro professore o con un vostro amico madrelingua, cercando di capire meglio dove cade in questa particolare lingua l'accento di frase, quindi con Forvo studiate l'accento di parola e con gli esercizi di lettura studiate l'accento di frase. E poi, poi dovete cercare di immergervi e sviluppare una routine quotidiana, ad esempio una cosa che faccio io è guardare le notizie in più lingue, in inglese, in francese e in spagnolo su france24.fr. È una risorsa pazzesca perché è gratuita e sempre su internet, appunto a questo indirizzo, ma ce ne sono molte altre che sono sicuro potete trovare nelle vostre lingue target. Ovviamente se avete l'opportunità di accettare un lavoro in qualche paese in cui si parlano di queste lingue o di fare un'immersione totale o addirittura aumentare la vostra cerchia di amici, è un'ottima idea. Quindi si conclude qui, spero che tutti questi consigli vi siano utili, a me personalmente avrebbe fatto molto piacere averli all'inizio del mio viaggio, avrei evitato di investire troppo tempo in cose che non mi hanno portato grandi risultati. Ma prima di chiudere, una menzione al merito per Memrise. Sicuramente Memrise è un sistema per imparare le parole con delle carte che si adattano ai vostri processi di memorizzazione. Memrise non è tutto, non potete imparare una lingua solo con Memrise, ma può aiutarvi a creare una solida base di un migliaio di mille, duemila parole nella lingua che state studiando. Quindi Memrise potete usarlo e approfittarne se avete voglia e se la cosa vi risulta familiare. Ovviamente tutti i metodi migliori sono quelli che coinvolgono l'interazione con altre persone, perché l'interazione con altre persone è quello che vi dà davvero la possibilità di comunicare e diventare davvero parlanti di quella lingua. Il suggerimento è sempre quello, sforzatevi di parlare dal giorno numero uno, perché in questo modo non farete sei mesi di lezioni di grammatica, poi avrete paura ad aprire bocca perché vi sentite stupidi, vi sentite che sbaglierete. Sbagliare è una parte fondamentale di qualsiasi apprendimento. E anche se avete sempre parlato italiano e lo parlate bene, vi sentite confidenti con l'italiano, è ora di lasciare la vostra zona di comfort e iniziare questo meraviglioso viaggio per diventare poliglotti. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!